Apriamo la pagina dedicata al coronavirus. La Puglia è prima in Italia per numero di ingressi nelle terapie intensive. Il dato che emerge dal report giornaliero del Ministero della Salute. Intanto sul fronte della campagna vaccinale sono più di 2.000 le persone che hanno risposto al bando della protezione civile della Regione Puglia disponibili a contribuire in via volontaria all'attuazione del piano anti-Covid-19. La scheda. Con 22 malati Covid ricoverati ieri nelle terapie intensive, la Puglia è prima in Italia per numero di nuovi ingressi in questi reparti. E' quanto emerge dal report giornaliero del Ministero della Salute. Il numero complessivo dei ricoverati in terapia intensiva è di 232 unità. Secondo il monitoraggio Agenas, in Puglia è occupato il 40% dei posti letto disponibili in terapia intensiva e il 46% dei posti nei reparti di aerea non critica Covid. Intanto sono 477 i casi di Covid accertati nel bollettino epidemiologico di ieri su poco meno di 5.800 tamponi. Si mantiene alto il numero delle vittime, sono infatti 37 i decessi registrati. Sul fronte della campagna vaccinale sono più di 2.000 le persone che hanno risposto al bando della protezione civile della Puglia che cerca medici, infermieri, assistenti sanitari e altro personale disponibili a contribuire in via volontaria all'attuazione del piano anti-Covid-19. L'avviso, emanato lo scorso 15 aprile, intende reclutare volontari proprio per la campagna vaccinale. A rispondere sono stati 63 medici, 60 infermieri, 19 assistenti sanitari, 117 operatori sociosanitari e 674 adesioni di personale vario. Tutti saranno ricontattati dalla Sala Operativa della Protezione Civile per le successive pratiche. I volontari, a cui sarà garantita la copertura assicurativa, presteranno servizio su tutto il territorio regionale con l'obiettivo di ampliare la platea di vaccinatori e aumentare le capacità di somministrazione di vaccini. Infine, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha dichiarato che il 90% delle famiglie pugliesi ha lasciato i propri figli in didattica a distanza. È un loro diritto costituzionale, ha detto, visto che nel mezzo di una pandemia con uno stato di emergenza uscire di casa è sempre un pericolo. Il governatore ha specificato che i dati sono riferiti alle famiglie con figli che frequentano le scuole superiori. Se c'è un'alternativa per uscire di casa, per fare un'attività doverosa come quella di andare a scuola, bisogna consentire alle famiglie di chiedere questa alternativa. L'ordinanza ha solo questo senso, rendere effettivo il diritto alla salute, ha concluso il presidente.